Salve a tutte e a tutti, oggi 14 dicembre vediamo la BIC cosa ci ha fatto trovare nel nostro calendario dell'avvento troviamo come al solito la casella 14 ed eccola qui, rettangolare, verticale questa volta parliamo a vedere cosa troviamo ed ecco una penna crystal da 1,6 mm, con la sfera da 1,6 mm di colore viola, queste sono made in Tunisia, vedete come la penna è nuova, c'è ancora il sigillo sulla punta della penna, andiamo a fare una veloce prova di scrittura e vediamo come scrive, questa se ricordo bene è la prima penna di questa serie che troviamo nel mio calendario basso la camera, un attimo ecco adesso vado a rimuovere la sfera, la sigillatura, la penna è partita proprio subito risulta molto scorrevole e questo è il colore della penna, un bel viola acceso la penna scrive bene anche perché come dicevo c'è una sfera molto grande quindi è molto molto scorrevole io vi ringrazio per aver guardato il video e vi do appuntamento a domani per aprire insieme una nuova casella del calendario dell'avvento grazie e a domani